Benvenuti alla nuova edizione del notiziario scolastico. Quest'oggi parleremo del progetto Agenda della legalità, perché io no? e pubblicazione della pagella del primo quadrimestre. L'Agenda della legalità è un progetto rivolto alle classi del bienio che si svolgerà il 17 febbraio dalle ore 11 alle ore 13 nell'aula magna della sede centrale del Montale o in collegamento per le succursali insieme al giornalista Marco Lillo e in videocollegamento con Giovanni Paparcuri sopravvissuto della strage di Chinnici che prende il nome dal magistrato italiano Rocco Chinnici che fu volutamente assassinato dalla mafia il 29 luglio del 1983 dove furono uccise anche tre persone della sua scorta. Per aderire al progetto è necessario che la classe interessata si prenoti entro il 15 febbraio alle ore 12 in vicepresidenza. Si propone il progetto Perché io no? Il progetto prevede incontri su vari temi per inalzare il livello di padronanza delle competenze di base di chimica e sostenere lo sviluppo delle capacità di imparare a imparare Quale è il presupposto costantemente migliorare per apprendere? Gli incontri sono aperti al massimo a 10 alunni si svolgeranno per le classi prime lunedì 20 febbraio 2023 dalle ore 14.30 alle ore 16 lunedì 27 febbraio dalle ore 14.30 alle ore 16 per le classi seconde venerdì 10 febbraio dalle ore 14.30 alle ore 16 e venerdì 17 febbraio dalle ore 14.30 alle ore 16 invece per le classi terze giovedì 16 febbraio dalle ore 14.30 alle ore 16 e giovedì 26 febbraio dalle ore 14.30 alle ore 16 Pubblicazione della scheda informativa dei risultati degli scrutini del primo quadrimestre Si comunica alle famiglie che i risultati degli scrutini del primo quadrimestre saranno disponibili dal pomeriggio del 9 febbraio 2023 Tutti i genitori e tutori sono tenuti a prendere visione dei risultati del rendimento tempestivamente Non sono previste altre modalità di comunicazione dei risultati stessi se non attraverso il registro elettronico Quello che avete sentito è un progetto realizzato da Flavio Ciammella Vi ringraziamo per averci ascoltato e vi diamo appuntamento ad una prossima edizione